A poco più di un mese dalla sua apertura avvenuta lo scorso 4 settembre, si è conclusa a Biancavilla la terza edizione del mercatino del libro usato, promosso dai ragazzi di gioventù nazionale. Una macchina ben rodata che da anni riesce a dare risposte concrete alle difficoltà legate alla crisi economica delle famiglie. Ma sentiamo direttamente dai giovani organizzatori del mercatino come hanno gestito l'iniziativa e quale il bilancio conclusivo. Il 4 settembre per il terzo anno di fila abbiamo attivato il mercatino del libro usato. Si tratta di un servizio che intende essere un concreto supporto per le tante famiglie biancavillesi che in questo periodo di crisi economica si trovano costretti a scontrarsi con un carolibri esagerato. Si tratta di un'iniziativa che ha offerto a tutte le famiglie di Biancavilla e dei paesi di Mitrofi la possibilità di poter acquistare i libri usati a metà prezzo. Come possiamo vedere dal bilancio di chiusura quest'anno siamo riusciti a vendere più di 700 libri e ad avere un risparmio complessivo di circa 5.000 euro. La nostra organizzazione consiste in un'iniziale registrazione dei libri cartacea e in seguente rilascio della ricevuta ai nostri clienti. In ogni ricevuta noi assegniamo un codice indicativo della persona e ci facciamo rilasciare un recapito telefonico che servirà a fine mercatino alla restituzione dei libri e dei soldi. In seguito alla ricevuta cartacea proseguiamo con una registrazione multimediale che ci agevola nella ricerca dei libri nel momento in cui i clienti vengono a richiederceli. Gli organizzatori sin da oggi danno l'appuntamento al prossimo anno.